omelia quinta domenica tempo ordinario anno ci non temere d'ora in poi sarai pescatore di uomini le letture di questa domenica ci fanno meditare sul dono delle vocazioni che cos'è la vocazione si può dire che è una chiamata particolare a seguire gesù più da vicino nella vita religiosa o sacerdotale il signore sceglie delle creature e dona loro la grazia più grande dopo quella del santo battesimo la vita consacrata è infatti un anticipo già su questa terra della vita angelica che si condurrà un giorno in paradiso nella prima lettura abbiamo ascoltato il racconto della vocazione del profeta isaia la risposta del profeta è stata pronta e generosa eccomi manda me e nel vangelo abbiamo sentito come gesù chiamò i suoi primi discepoli e come loro tirate le barche a terra lasciarono tutto e lo seguirono gesù inoltre dice a pietro d'ora in poi sarai pescatore di uomini ovvero collaboratore di dio della salvezza dei fratelli certamente il signore chiama molti giovani alla vita consacrata o sacerdotale dal momento che immensi sono i bisogni delle anime da salvare in ogni angolo della terra purtroppo sono sempre troppo pochi quelli che rispondono generosamente lasciando tutto per seguire il signore in proposito si racconta un episodio della vita di san francesco saverio una volta questo santo dopo aver predicato ai giapponesi sull'immenso amore di dio nel donarci il suo unigenito figlio senti farsi questa grave obiezione come mai dio se è così buono come tu dici ha aspettato tanto a farci conoscere i misteri del cristianesimo a questa domanda san francesco saverio si rattristò poi si fece coraggio e rispose volete saperlo ecco dio aveva incaricato molti cristiani di venire ad annunziarvi il vangelo ma molti di essi non hanno voluto obbedire san francesco saverio fece un appello ai giovani che perdevano il loro tempo più bello in cose inutili come vorrei far conoscere a tanti uomini più ricchi di scienza che di amore il grande numero di anime che per loro negligenza sono prive della grazia e forse vanno all'inferno sono milioni di infedeli che forse si farebbero cristiani se ci fossero missionari il missionario è veramente un pescatore di uomini che non va da sacrifici pur di guadagnare anime a gesù cristo la vocazione missionaria è una vocazione eroica santa teresina del bambino gesù paragonava il missionario al martire che perde la sua vita per amor di dio dio chiama chiama molti giovani san giovanni bosco in base alla sua esperienza di educatore della gioventù diceva che un giovane su tre ha il dono della vocazione pensiamo a quante chiamate a quante poche risposte bisogna pregare molto per ottenere il dono di numerose e sante vocazioni questo è il dono più grande più necessario alla chiesa e al mondo intero a nulla varrebbero le più grandi opere se mancassero gli operai della messe diceva san giovanni maria viani lasciate un paese per vent'anni senza sacerdote gli uomini vi adoreranno le bestie pensiamo a quanti paesi sono senza sacerdote a quante anime sono senza pastore bisogna molto pregare per implorare un dono così grande nella vita di monsignor kettler vescovo di magonza in germania si legge un episodio molto bello che ci fa capire quanto valga la preghiera umile e nascosta celebrando la santa messa in un monastero monsignor kettler rimase stranamente colpito nel distribuire la santa comunione alla vista di una suora quel volto lo aveva già visto in un'altra occasione finita la messa espresse il desiderio di parlare alla comunità tutte le religiose si radunarono ma il vescovo non vi trovò quella che tanto l'aveva impressionato chiese se tutte fossero presenti e seppe che mancava una suora che era già al lavoro venne chiamata e interrogata su quello che faceva su quelle che erano le sue preghiere nel corso della giornata e la rispose che fin da bambina pregava molto il sacro cuore di gesù e che di notte dedicava un'ora di preghiera per la conversione di quei giovani intelligenti chiamati al sacerdozio ma che trascurano la loro vocazione ancora più impressionato il vescovo disse alla superiore io debbo la mia conversione da una vita frivola a questa suora una notte nella foga della danza vidi improvvisamente davanti a me un volto che mi fissava intensamente ne rimasi sbalordito meditai su quella strana apparizione compresi la leggerezza del mio operare cambiai vita entrando in seminario oggi nel distribuire la comunione ho riconosciuto quel volto apparso mi nella notte ogni vocazione è un miracolo e solo la preghiera lo può ottenere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti